Tavolini e altri arredi leggeri fino a 200 metri dal negozio per gli esercizi commerciali che si affacciano sui cantieri della M4 a Milano. E' il contenuto di una delibera già approvata dalla Giunta in via d'approvazione da parte del Consiglio Comunale già giovedì 20 maggio. Una delibera su cui c'è ampio accordo tra maggioranze e opposizioni e che va a modificare il regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee e leggere del Comune di Milano. Si tratta del regolamento approvato a dicembre 2020 che ha già permesso di ampliare le occupazioni sui marciapiedi, spazi pedonali o carreggiate al posto della sosta, ma che non teneva conto di particolari situazioni di disagio come quella appunto dei negozi in prossimità dei cantieri della M4, cantieri che occupano lo spazio antistante ai negozi. Il regolamento prevede normalmente che gli esercizi commerciali possano usufruire di uno spazio nell'ambito di 30 metri dall'affaccio in strada. La modifica prevede la possibilità di arrivare fino a 200 metri se c'è un disagio comportato da un'opera pubblica con cantieri invasivi e di lunga durata come appunto quelli per realizzare la quarta linea del metro.